No, 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 non ho menziotto, non c'è. Poi non vado a fare un negozio più grosso, non c'è dentro. La cavia. La cavia. È solo che questo tripudio di dolce salato non fa bene. Poi c'è del salame. È bignè al salame. Non c'è una scherzo, ci mangiate da fare. Non ho mangiato da più. Adesso basta. Mangiate. Mi esce dal naso di solito, quel colore è nero. È stato buono a riempirle tutti. Molto buono. Sbota non l'ho fatto. No, sbota. No, sbota. Sbota non l'ho fatto. Precettini. Sbota non l'ho fatto. Sbota non l'ho fatto. Cos'è una palla gialla? Sbota non l'ho fatto. È vero. Buonissimo. 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 Ma non dite più. Aveva. Aveva Luca. Come se ne aveva mangiato un alcemo. Ma? Mori con sti piglieri. Vecchio! Luca! Se li assaggiasse... Luca? Vabbè dai in pezzi. Dai. Bravi! Posso avere un autografo? Buonissimo.